il torre de busi è in testa al girone b eh, spareggio contro i missili, è vero o no? il terbi da navetta, esatto, vale il primo posto del girone b, è vero? primo posto del girone b attenzione eh, vieni addosso eh, vai vai vai, costruite qua, farla girare, farla girare in mezzo, in mezzo, in mezzo allora ragazzi, ragazzi, 0 a 0 con i missili eh, grandi, passaggio del turno, primi o secondi? primi per differenza, primi, il coach Mourinho, c'è Mourinho che arriva più tardi, è vero? si, ha mandato un messaggio a me, qua fanno i complimenti, abbiamo passato il turno di Champions ad affrontare il dottor Avveld domenica non lo vediamo, dai ragazzi, ancora in tanti ragazzi, ancora? via ok ok torri Mister, allora, prima della finale qua, c'è da ingabbiare il numero 10 del Real Alcolizzati? No, secondo me è più che il numero 10, il numero 11 del Real Alcolizzati, che è un ottimo giocatore, dato che lo ordinavano quest'anno. Misteri generosi lasciano il torneo, che ramarico c'è? Non lasciamo niente, non lasciamo niente. Devevamo essere stati generosi fino alla fine, potevamo fare qualcosa di più. Comunque complimenti ai ragazzi, alla prossima occasione. Grazie. 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 Concentrati dietro! Concentrati dietro! Concentrati dietro! Tira! Allora, un passo! Sì! Sì! Vai! 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 Oh, ragazzi! Ragazzi, ragazzi! Ragazzi, ragazzi! Ragazzi, giochiamola! Un passo! Un passo! Un passo! Palla! Un passo! Un passo! Un passo! Un passo! Un passo! Un passo! È un passo! Vai! Estamos in più! Grazie, grazie, grazie. Grazie, grazie. Grazie, grazie. Grazie.